Salve a tutti cari amici, sono il ricercatore Emiliano Babilonia. Abbiamo qui una signora dell'Umbria che è stata sottoposta a manipolazioni attraverso tecnologie e frequenze di controllo mentale che vuole fare la sua testimonianza. Ascoltate bene la testimonianza di questa signora perché è un esempio da seguire e non ascoltate le voci, non seguite le voci e non prendete ordini dalle voci. Questa signora è stata in grado di resistere, è stata in grado di capire quello che gli stavano facendo. Lascio la parola alla signora. Allora, salve a tutti. Io dal 2012 sono cominciati alcuni disturbi, una cufene terribile e delle voci che sentivo dentro la testa. Uso questo termine ma ci sarebbe molto da approfondire su questa cosa. Allora, queste voci mi dicevano in continuazione, prendi il martello e spaccalo in testa a tua figlia. Oppure prendi il martello e spaccalo in testa. C'era una signora di cui io mi occupavo all'epoca, adesso è morta, mi dicevano di ucciderle o buttarle dalla finestra. Io ero molto spaventata da questa cosa e ho cominciato alcune ricerche. Le ricerche mi hanno portato a una situazione che esiste tra le agenzie di intelligence, studi dell'istituto Tavistock e altre cose anche collegate all'occultismo, all'esoterismo, per cui ho capito che ci sono delle frequenze che possono ordinare alle persone, per esempio, di fare delle cose assurde o dare fuoco a casa o buttarsi dalla finestra o uccidere qualcuno. È molto importante prendere coscienza di questo perché prendendo coscienza del problema ci si può opporre. Non so, Emiliano, se sto andando bene, se vuoi farmi qualche domanda più specifica. Stai andando benissimo. Quello che mi hai detto prima veramente è una cosa orribile di quello che ti hanno fatto, quindi ti lascio parlare liberamente e dopo, se in caso, intervengo io ti faccio delle domande più specifiche. Ok, allora, bisogna prima di tutto approfondire certi argomenti che possono essere l'uso di armi psicotroniche, cosa possono far fare anche a una persona che normalmente non farebbe mai quelle cose lì e neanche le penserebbe, perché quale madre penserebbe di dare una martellata in testa alla figlia, a meno che non fosse psicopatica. Però io ho cresciuto tre figli, insomma, con amore, con tenerezza e sentire che qualcuno mi diceva spacca la testa a tua figlia, la cosa mi lasciava un attimino interdetta e ho fatto determinate ricerche. Le dovete fare queste ricerche. Questi esperimenti con queste armi psicotroniche, con l'uso di chemtrail e tutto il resto, sono partite molti anni fa, non è una cosa nuova. Loro nel passato hanno già fatto degli esperimenti per vedere se funzionava questa cosa. La cosa macabra che io ho trovato è che vogliono usare questa cosa su larga scala, perché c'è dietro tutto un discorso collegato ai piani di depopolazione, che purtroppo esistono, se fate le ricerche, troverete il materiale attinente, come depopolare la Terra, per mezzo di queste armi, per mezzo della frequenza 5G, perché è una frequenza pericolosissima per il cervello umano, e per questo gli uccelli cadono morti a Terra. Quelli sono solo esperimenti che loro hanno iniziato a fare, fra cui anche a Wuhan hanno fatto la prima sperimentazione del 5G, ed ecco i risultati. Cioè bisogna prendere coscienza di questo problema, perché così potete fare qualcosa, perché quando una persona si risveglia può opporre la propria forza a questa cosa, quando vengono queste frasi può capire che cosa deve fare. Non so Emiliano, se vuoi chiedermi qualche altra cosa? Io ho subito i stessi attacchi, le stesse manipolazioni che hanno fatto anche a te, attraverso il sistema del controllo mentale a distanza. Chi opera con queste tecnologie di manipolazione, conosce perfettamente la mappatura cerebrale, e conosce perfettamente come determinate frequenze creano delle alterazioni. Il famigerato Manchurian Candidate, soldati programmati per fare una determinata azione, e poi non accorgersi di fare quella determinata azione. Oppure gli resettano la memoria temporanea e il soldato non sa neanche di aver fatto quel tipo di azione, qualunque tipo di reato che può creare ovviamente dei danni, sia a lui, ai familiari e alle persone che gli stanno vicino. Perché la programmazione mentale è proprio questa, loro ti inducono a pensare che una cosa è giusta, ma che in realtà è totalmente sbagliata. Cambiano le frequenze dell'amore che uno ha per i propri figli, e le fanno diventare le frequenze della rabbia e dell'odio verso i propri figli. Mi è capitato di fare un'analisi con i misuratori dei campi elettromagnetici a casa di una signora, e la signora praticamente era diventata aggressiva e violenta contro i vicini di casa. E noi gli dicevamo, state tranquilli, non sono i vicini di casa, dov'è il vicino di casa che vi spara con queste armi? E lei era talmente convinta, perché sentiva le voci in testa che dicevano, no, sono i tuoi vicini, sono i tuoi vicini, sono i tuoi vicini, che praticamente lei ha incominciata a infierire contro i vicini. Infatti, poverina, poi gli hanno fatto pure un TSO, perché i vicini hanno chiamato l'amministratore, e l'amministratore ha chiamato le forze dell'ordine e l'hanno portata via e gli hanno fatto questo TSO. La signora addirittura ha cambiato casa, si è trasferita da un'altra parte e stando in un altro luogo dice che i primi mesi stava bene, dopo 3-4 mesi l'hanno riattaccata un'altra volta a queste armi, a queste frequenze, a queste tecnologie. E allora lei si è ricreduta e mi ha detto, no, avevi pienamente ragione, usano queste armi e mi attaccano attraverso questi tipi di frequenze e tipi di programmi messi nel mio cervello. Io gli ho detto, te l'avevo detto, di stare tranquilla, di non credere che erano i vicini di casa. E alla signora gli dicevano di martellarsi il seno, perché gli dicevano che dentro al seno erano stati impiantati dei microchip e che se lei si martellava il seno distruggeva questi microchip. E io gli ho detto, ma non hai pensato che te lo stavano facendo apposta, che ti stavano manipolando per farti credere pazze e malarimente? E lei mi ha detto, l'ho capito dopo tanto tempo che praticamente tutto quello che mi dicevano era solo una forma intimidatoria per rendermi aggressiva e violenta contro persone che non c'entravano niente. Infatti dopo la signora è andata a chiedere scusa a questi vicini e gli ha detto, scusate, non stavo in me in quel periodo. E i vicini praticamente hanno capito la situazione. Però ci sono altre persone che gli dicono proprio, ammazza i tuoi figli e questi prendono e ammazzano i figli buttati di sotto e quelli prendono e si buttano di sotto. Purtroppo queste voci quando sono voci rilassanti, carine, benefiche tutto a posto ma quando sono voci che minacciano dicono parolacce, infieriscono sulla nostra vita ci torturano fisicamente e psicologicamente attacchi sessuali durante la notte io ho decine di testimonianze con attacchi sessuali durante la notte e la gente dice ma io come faccio? Io ho paura di stare dentro la mia stanza perché credo che viene qualcuno a violentarmi e io a tante persone ho detto state tranquille che non vi viene nessuno a violentare e loro con queste frequenze simulano ogni tipo di orgasmo ogni tipo di eccitazione ogni tipo di manipolazione come mi dicevi prima anche te l'autorismo era chiamato magia nera magia nera applicata alla tecnologia questo è sono gli stessi concetti della magia nera dell'osotorismo anche te sei stata sottoposta a queste frequenze di manipolazione durante la notte? Molto, molto io avevo un'altra cosa adesso io sono separata all'epoca ero sposata mio marito aveva anche difficoltà a risvegliarmi quando io subivo l'attacco di quello che una volta veniva chiamato incubo ma poi in realtà è sempre la stessa cosa cioè non riuscivo quasi a svegliarmi perché mi terrorizzavano a tal punto sia spaventandomi con immagini terribili per cui io subivo degli specie di shock e mio marito diceva che andavo tipo in apnea nel senso non riuscivo a risvegliarmi questo è successo per parecchio tempo adesso mi hanno lasciato un po' in pace nel senso che io ho preso coscienza e ho fatto molte ricerche quello che vi raccomando di fare è di fare ricerche di non prendere queste cose come fantascienza non è fantascienza queste sono cose che usano agenzie di intelligence militare collegato a un tipo di esoterismo e c'è in gioco la vita vostra e dei vostri cari questo c'è in gioco è vero, è tutto vero perché non è possibile che persone normali possano attaccare e torturare persone innocenti che non fanno niente e sottoporle ad esperimenti militari o paramilitari disumani perché non è possibile gente che viene surriscaldata durante la notte poi viene raffreddata durante la notte acufeni bruciori in testa manipolazioni cerebrali gli creano tutti gli attacchi possibili e immaginabili per farli diventare pazzi o malati di mente anche a me due volte di notte è capitato che mi mandassero due scariche elettriche è stata proprio una scarica elettrica che mi ha attraversato tutto il corpo tutta la spina dorsale fino alla testa e due volte mi è successo questa cosa io mi sono svegliata all'improvviso con una sensazione di caldo insopportabile sulla testa e sono andato in bagno a sciacquarmi la faccia per raffreddarmi ma stavo dormendo tranquilla capito? nel senso possono fare tante cose in effetti possono fare quasi tutto mentre uno dorme perché hanno capito come funziona è bisogno che voi vi informate che cos'è l'astrale perché loro agiscono su questo piano e l'astrale è quando si dorme che si vive quando il corpo dorme si vive l'astrale ed è lì che loro fanno tutto in cielo nel senso in questi cieli ecco perché li manipolano e stanno facendo tutto questo prendete coscienza di tutto questo perché è molto importante per voi sì, infatti con lo stato ipnotico e narcoletico loro possono amplificare determinati tipi di frequenze durante il sonno perché la narcolessia indotta fa sì di farci vivere un incubo ad occhi aperti noi vediamo immagini sentiamo delle frequenze delle sensazioni abbiamo dei disturbi proprio anerenti a tutte queste amplificazioni che loro ci creano e poi la notte non ci fanno dormire perché così è più facile crearci uno stato ipnotico e narcoletico durante il giorno perché sentiamo il sonnambulismo noi non ci accorgiamo di quello che in realtà stiamo facendo o quando loro ci creano dei blocchi cerebrali e quindi facciamo dei gesti facciamo delle cose che possono portare molte volte a credere che qualcuno dentro casa ci fa sparire le cose oppure che buttiamo alcune cose nel secchio ma non ci accorgiamo di essere stati noi stessi a buttarle loro lo fanno apposta questo perché così quando noi andiamo dai nostri parenti diciamo guarda a me mi succede questo a me mi succede quest'altro ma attaccano con queste armi vengo sottoposta a lavaggi del cervello a torture mi parlano in testa ma no ma sarai un attimo esaurita un attimo dei problemi di bibolarismo sono manie di persecuzione no 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 questi sono proprio attacchi veri e propri effettuati da agenzie deviate sopra istituzionali e le persone ancora non credono dicono che non è possibile che non esistono queste tecnologie invece non è così le testimonianze parlano chiaro no le persone è impossibile almeno io parlo per me per me io sono una studiosa una ricercatrice di queste cose non cioè non non parlo né per pubblicità né per niente mi piacerebbe aiutare le persone cioè se qualcuno ha delle domande io posso rispondere ad alcune domande perché ho fatto determinate ricerche fatele anche voi interessatevi un po' del perché dopo la seconda guerra mondiale tutti gli scienziati tedeschi furono portati in America tra cui cioè io adesso non voglio fare nomi perché non voglio sembrare una cospirazionista perché mi dà fastidio questo termine comunque tra cui Mengele che poi diede vita all'MK Ultra sono esperimenti che lui faceva lui era chiamato l'angelo della morte ma in realtà lui era veramente lui da cui poi viene se volete vedere il film Plumi Island con DiCaprio parla di questa cosa e dice molte molte cose bere quel film poi in realtà le news sono delle stronzate trovate delle grandi verità in questi film che loro stessi ripropongono e quando uno è sveglio pensa ma che cos'è un sogno la realtà e si trova un attimino spiazzato da questa cosa dovete prendere coscienza dovete fare delle ricerche prendetevi il tempo insomma di capire di capire come funzionano queste cose perché sono reali ti volevo chiedere un'altra cosa prima mi hai detto che simulavano dei sogni che sembravano realtà virtuale sia a te che a tuo figlio sì gli stessi sogni perché dovete sapere io ho studiato la lingua italiana dei segni perché mio figlio è sordo muto allora mi sono dovuto attrezzare per comunicare con lui adesso mio figlio ha quasi vent'anni il mattino lui si svegliava spaventatissimo ma io non raccontavo i miei sogni perché non volevo come condizionarlo e lui con la lingua dei segni perché non parla mi spiegava che cosa vedeva nei sogni ed erano le stesse cose che vedevo io ma questo non una volta questo tutte le notti al mattino io gli dicevo raccontami raccontami e mi raccontava determinati sogni che erano le stesse entità che vedevo io perché io gliele facevo descrivere ma come sono fatte gli occhi come sono come camminano che fanno ed erano le stesse entità che di notte davano fastidio a me dopo io ho spiegato a mio figlio come doveva comportarsi l'ho un attimino sensibilizzato su questa cosa ultimamente va meglio nel senso che i suoi sogni adesso sono diciamo chiamiamoli sogni ordinari perché quelli erano sogni straordinari erano film horror in diretta come una proiezione e io non io non seguo la televisione perché è 15 anni che ho tolto la parabola non sono una fissata di film io mi sono interessata dei film perché mi interessavo di determinati argomenti tutto quello che è Matrix è tutto quello è tutta realtà certo ci ficcano anche un bel po' di fantasia perché poi il nostro cervello razionale dice no ma questa è tutta una stronzata e invece no invece funziona proprio così e dopo è un lavoro interno che uno deve fare è un lavoro diciamo anche di ricerca insomma di non rimanere sempre no non è possibile no è una fantasia no cioè questo non porterà da nessuna parte insomma perché quelle sono entità forti collegate a strutture militari molto forti e faranno di voi quello che vogliono in realtà è vero non so se sono stato chiaro è vero è vero è vero ti volevo chiedere un'altra cosa vuoi dare un consiglio alle persone che praticamente ascolteranno questa tua intervista testimonianza allora un consiglio dunque fammi pensare un consiglio è di spegnere la televisione il mio consiglio le news prima di tutto perché sono un insieme di bagianate pazzesche tutto quello che è nascosto è quello che voi dovete ricercare quello di cui non si deve parlare è quello che dovete cercare io ho agito in questa maniera nel senso se mi dicevano no non cercare questo io era proprio quello che cercavo un po' è anche il mio carattere insomma questo succede anche per esempio su facebook quando mi censurano mi cancellano gli account a decine a decine mi bloccano così perché posto determinati argomenti allora quando loro mi bloccano io so che ho toccato un tasto dolente perché tutto viene cioè la rete ingloba tutti e ingloba tutto l'intelligenza artificiale ingloba tutti ormai bisogna un attimino avvercare la propria pelle dei propri cari insomma cercare di capire che probabilmente c'è questa elite nascosta che ci manipola tutti ma c'è sempre stata ecco prendete coscienza di questo insomma che stanno manipolando un mondo intero ecco un attimino sforzatevi con tutte le vostre forze di uscire da determinati schemi mentali e dire ah ma questa è fantascienza no non è fantascienza ecco perché questa cosa l'hanno studiata dai monaci tibietani di oggi che praticavano determinate forme di ipnotismo a tutti i grandi occultisti esoteristi e agenzie militari che si sono interessate di queste cose sia in Russia che in America informatevi su questo perché sono stati fatti uno sono stati fatti studi su questi fenomeni psichici chiamiamoli paranormali ma in realtà è solo perché uno non li capisce quando capisce come funziona non sono più paranormali insomma il mio consiglio fatevi forza state in contatto con persone che hanno magari questi problemi aiutatele aiutatele se siete riusciti ad uscirne questo è il mio cioè questo è il mio consiglio ecco è l'unico consiglio che posso dare un attimino perché i tempi stringono un attimo uno si deve svegliare altrimenti si trova a fare delle cose che non farebbe mai se fosse in una condizione normale una bellissima intervista testimonianza complimenti anzi io ti aspetto a Roma quando faremo la conferenza complotto di Stato così potrai anche parlare e dare una tua testimonianza direttamente all'interno della sala poi hai detto delle cose molto giuste che questi sono criminali che operano proprio attraverso occulti e attraverso sono tecniche occulte queste attraverso sistemi di massoneria deviata di esperimenti militari è come se viviamo in un campo di concentramento a cielo aperto dove noi vediamo tutti quanti attaccati e manipolati con queste tecnologie di controllo e di manipolazione tanto loro vogliono depopolarizzare il pianeta Terra con queste tecnologie è facile uno lo fanno impazzire un altro lo fanno buttare di sotto un altro gli fanno fare un incidente stradale ed ecco come eliminano milioni di persone nel territorio nazionale italiano anche perché con tutto quello che sta succedendo questo loro concetto è dividi e conquista mettere uno contro l'altro per poi intervenire loro e mettere a posto tutti e certo non è per il bene ve lo posso assicurare perché queste cose sono già successe nel passato studiate un po' di mitologia insomma perché poi trovate grandi verità che poi alla fine non c'è niente di nuovo sotto questo suono ve lo posso assicurare se tu mi inviti io ci vengo volentieri a Roma se posso Emiliano se qualcuno mi vuole contattare non c'è problema insomma io sono disponibile a qualsiasi confronto a qualsiasi a qualsiasi diciamo aiuto che posso dare nel mio piccolo perché voglio il bene voglio il bene sono una madre voglio il bene insomma voglio queste cose non si devono fare ecco io contatterò adesso delle vittime ovviamente in privato darò in caso il tuo account o di facebook oppure tramite mail così vi potete mettere in contatto e magari incontrarvi e parlare proprio di queste argomentazioni stiamo preparando la nuova conferenza che faremo tra circa un mese e mezzo due mesi perché purtroppo a causa di questo coronavirus hanno un po' bloccato tutte le conferenze a Roma e in questa conferenza complotto di Stato si parlerà del 5G del controllo mentale delle esce chimiche si parlerà anche dello Stato deviato che per vile denaro fa succedere dei casini e delle delle gravi situazioni nel territorio nazionale italiano dando anche la colpa a organizzazioni criminali ma in realtà è lo Stato stesso che fa questi crimini quindi io ti ringrazio tantissimo per la tua intervista testimonianza e ti aspetto a Roma tra un mese e mezzo o due mesi e poi noi rimaniamo in contatto sul mio nuovo account di Facebook che è Emiliano Babilonia Italia che è un account pubblico dove tutti quanti possono chiedermi l'amicizia ti ringrazio va bene grazie a te Emiliano e a tutti salve ciao